Parte il progetto europeo per salvare Pompei a rischio crolli e infiltrazioni grazie all'utilizzo di 41,8 milioni di euro di fondi regionali, parte di un finanziamento complessivo di 105 milioni. Con l'aiuto di alcune delle più sofisticate soluzioni high-tech all'avanguardia si contribuirà alla conservazione del sito gravemente danneggiato nel corso degli ultimi anni. Il progetto prevede anche una serie di misure per proteggersi dall'influenza della camorra. Lavorando a stretto contatto con la Commissione europea, le autorità italiane hanno nominato infatti un prefetto speciale del Ministero dell'Interno per sorvegliare gli aspetti di sicurezza e legalità del progetto dall'inizio alla fine. I primi due cantieri riguarderanno il restauro della casa dei Dioscuri e il criptoportico. Grazie. Grazie.